A voi Altigi Espresso, dimissioni di Mario Bruno, minaroli sada muti della cattedrale Sassar, valorizzazione dei sbulgos continuano i pranzi, saccagna a ranurra, sanità dama a l'alghè e giunare viva. Sigla! La mozzarella di bufala, se è nobile, è meglio. Farinelli Fresco Market Buongiorno, benvenuti. Abbiamo la Letigi Espresso, l'appuntamento quotidiano con l'informazione del Guerro Channel. Un saluto agli amici cattarani. Continuiamo per discutere le dimissioni di Mario Bruno. A Irforzitalia ha incontrato i cittadini per parlare dei fatti. I minaroli dell'Umerua da muti della cattedrale di Sassar, dedicati, sono insieme amici i lavoratori del Geoparco. L'incontro è portato al stesso obiettivo. I minaroli e i lavoratori dell'ex atti IFRAS, che guardano l'opera dei ricollocamenti proposti della Regione e diventano operativi. Demandano che non s'adessino a fuori, nessuno dei 520 anni di disoccupazione già di 9 mesi. L'incontro del sindicato con i progettisti del Prato di conservazione e la valorizzazione per la bonifica della Ghe. L'uso dei rappresentanti dei Comitati, dei Sbulgus, dei Gualda Gran, Corea, Maristella, Sagara e Tancafarra. Fatti i punti si passano obbligatoriamente al Prato idrogeologico. E' stato presentato il cronoprogramma che vedo l'interessamento del Paese, l'incontro del MES che entra. Allarme saccagna nella Lurra. Il Presidente del Consorzio, Gaviro Ziratti, aveva damanato l'interessamento del Pigliaro. Al tema Cuga-Bidighinzo, erano un manco di 14 milioni di metri cubi di acqua. Ci servivano 40 per il consumo di euro e 30 per l'irrigazione. D'asprese del Tg, per inviare lo filmato del nostro Paolo Calareso che testimonia la situazione del Cuga. Veo la regia e le gottune mandiretta. Daman, alla Torre di San Giovanni, in occasione della Semana Viva della Rianimazione Cardiopulmonar, manifestazione organizzata dell'associazione Onlus Oltre il Cuore. in collaborazione con l'associazione Culturale Amento, in cui i creatori e i milioni di tutte le scuole dell'arghè potranno provare, ad amont, dei manichini, la manovra salvaviglia, di rianimazione cardiopulmonar e del liberamento dell'ostruzione delle spalle respiratorie. Curiosità di voi. Gérôme Ferretti, nato dal 1552 e molto dal 1621, capitato dell'esercito. L'esercito imperiale è stato il fondatore dell'Igresia di San Michele e del Collegio. Per qualsiasi informazioni o domande, voi potrete contattare la pagina di Facebook e di Alguerro Channel. Ora, le previsioni del tempo per domani. Amos Vibra! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.